Invito alla solitudine e al ritiro. Abate Valois nel libro Lettera ad un solitario. Ritiratevi dalla folla e dal tumulto. Venite a cercare il Signore nella solitudine. Qui Dio chiama coloro ai quali vuol parlare. Questo è l'appuntamento che dà loro. Recatevi là ed egli vi troverà. Li parlerà alla vostra mente e al vostro cuore e si compiacerà di conversare con voi ogni volta che sarete attento e pronto all'ascolto. Userà un linguaggio che mai prima avete inteso ma che comprenderete con grande consolazione e vantaggio. Apprenderete verità fino allora nascoste e diverrete indifferente verso quelle cose che finora amavate comprendendo la necessità di uno stile di vita più ritirato e maggiormente dedito alla pietà e alle virtù. Questo nuovo stile di vita non comporterà la fuga completa dal mondo a motivo dei vostri doveri di stato anche se questo sarebbe il mezzo migliore per santificarvi ma sappiatelo bene che per il buon andamento della vostra vita spirituale non sarà sufficiente il ritirarvi sporadicamente qualche ora neppure per un giorno solo ma dovete dare a voi stesso il tempo necessario perché dio vi possa parlare e voi possiate ascoltarlo e comprendere quanto vi dirà. Così riempirete la vostra mente e il vostro cuore di grazia onde resistere alle frequenti tentazioni che non potete evitare nel vostro stato di vita. Oso promettervi che facendo questo nei frequenti ritiri col Signore voi avrete come gli israeliti nel deserto una colonna di fuoco per illuminarvi nelle vostre tenebre ed una nube in forma di colonna per difendervi dai falsi splendori del mondo onde non abbagliarvi. Dio sarà la vostra guida come lo fu di loro egli vi guiderà vi nutrirà come essi col pane degli angeli e se lo seguirete vi condurrà al monte della santificazione.